Cos'era e come funzionava un feudo? Allora, la parte del feudo che veniva coltivata si chiamava corte ed ecco spiegato perché l'economia di questi territori era detta curtense. La corte si divideva in due parti. C'era la parte dominica, dominus, del signore, e la parte massaricia, cioè la parte affidata ai massari, che erano i contadini, i contadini liberi. La parte dominica era invece coltivata da un'altra classe di contadini chiamati Servi della Gleba. Gleba vuol dire terra. Perché si chiamavano così? Perché in pratica erano degli schiavi. Non potevano andarsene dal luogo in cui erano nati. Un po' come se appartenessero alla terra, come fossero, non so, un albero. Ecco, non potevano allontanarsi da dove erano cresciuti. In questa parte, domenica, c'era la dimora del vassallo, anche se il vassallo non sempre vi risiedeva, perché molto spesso risiedeva in città. E poi c'erano i villaggi, c'erano i boschi, dove spessissimo i signori andavano a caccia, i pascoli, tutte le attrezzature agricole, ad esempio il forno per cuocere il pane, il mulino, il frantoio per schiacciare le olive. C'erano poi i laboratori degli artigiani, dove costruire gli attrezzi agricoli o tutto ciò che serviva per gli animali, non so, pensa ai ferri di cavallo. E poi, ovviamente, la parte più importante era rappresentata dai campi coltivati. Nel villaggio c'era anche la parrocchia. Il vassallo doveva pagare ogni anno al parroco la decima, cioè una tassa, sostanzialmente, che si chiamava decima, perché era rappresentata dalla decima parte di quello che il feudo produceva. Il parroco, poi, del villaggio a sua volta, ne versava una parte al vescovo della città. Nella parte massariccia, i contadini coltivavano i campi che si chiamavano mansi. Ovviamente questi campi non erano proprietà del contadino. Il contadino li prendeva, diciamo, in affitto. Pagava un affitto al feudatario. Il feudatario, però, non si accontentava di questo e aveva tutta una serie di diritti, i cosiddetti diritti di banno, che esercitava sulle persone e sulle cose. Egli era il padrone di tutto, padrone anche della gente che abitava sul feudo. Ad esempio, se i contadini avevano bisogno di utilizzare il mulino, e per forza dovevano utilizzare il mulino, perché il grano va macinato per poter fare la farina, dovevano pagare una tassa al signore. Se volevano usare il forno, dovevano pagare una tassa al signore. Non solo, ma addirittura spesso nel feudo c'erano dei fiumi con dei ponti. Per poter passare da una parte all'altra del fiume, bisognava pagare una tassa. Peggio, il feudatario poteva, aveva il diritto, di impossessarsi di qualsiasi cosa. Poteva cioè andare nelle case dei contadini e prendere qualsiasi cosa, dalle provviste, agli animali, persino delle persone. Poteva prendersi la figlia del contadino, la moglie, qualsiasi cosa. Tra tutti i doveri che i contadini avevano, il più detestato era la corvè. In pratica, quando il feudatario aveva bisogno, il massaro doveva abbandonare i suoi campi, trasferirsi nella parte dominica e mettersi per tre giorni alla settimana a servizio del feudatario. Per fare cosa? Ah, dipendeva dal bisogno. Potevano essere lavori di manutenzione del castello, delle mura, oppure poteva essere l'epoca del raccolto e il massaro doveva dare una mano ai contadini, ai servi della gleba per raccogliere i frutti dei campi del Signore. Perché era tanto odiata questa corvè? Perché per poter fare questo lavoro i massari dovevano abbandonare i loro di campi. E questo creava ovviamente non pochi problemi. la vita di questi contadini era molto molto difficile. Spesso erano affamati e, come dire, si aiutavano con quello che veniva trovato nel bosco. boschi, da dove prendevano non solo frutti selvatici, funghi per mangiare, ma anche la legna che serviva a costruire o a scaldarsi. questa economia del feodo viene chiamata economia chiusa. L'economia curtense è chiusa. Perché? Perché, come abbiamo visto prima, all'interno del feodo, tutto sommato, veniva prodotto tutto quello di cui la gente aveva bisogno, i prodotti agricoli e dell'allevamento e gli oggetti. Le uniche cose che venivano dall'esterno erano i beni di lusso. Non so, i profumi, le stoffe pregiate, le spade di qualità, ma erano oggetti destinati esclusivamente al Signore e alla sua corte.